Un'altra grande serata, dopo la finale europea raggiunta adesso si va avanti, c'è tutto il bello del volley in questa partita, cuore, concentrazione, da dove vogliamo partire? Siamo dalla vittoria, era importante vincere, non avevamo altre possibilità e l'abbiamo fatto nel migliore dei modi secondo me, nel senso che abbiamo giocato una bella pallavolo, siamo stati tosti, abbiamo saputo recuperare anche nella parte finale e abbiamo giocato di squadra, insomma delle condizioni che ti permettono di vincere queste partite. Ogni volta resettare, ricominciare davvero non deve essere facile giocando su due fronti, oggi però sembrava che voi non aveste alle spalle una partita così impegnativa come quella di Lisbona. Insomma, se andiamo a guardare quello che abbiamo fatto nelle ultime due settimane, abbiamo tre tie break giocati, un 3-1 e un 3-0, quindi di 7 ne abbiamo fatti tanti, ci alleniamo anche per, nel senso che nell'ultimo tre settimane abbiamo avuto la possibilità anche di allenare, cosa che purtroppo per gran parte di questo 2016 non abbiamo avuto, perché ci sono mancati sempre tanti giocatori e questo è stato un pochettino un problema. E quindi però siamo una squadra che ha qualità, tira fuori queste qualità, bisogna però giocare anche con quella determinazione, con quell'aggressività che ti permette di fare a volte cose straordinarie, perché queste partite bisogna farle, saperle fare. Siete riusciti a un certo punto a mandare fuori i giri a Tanasievic e la cosa non è per niente facile? No, anche perché nella gara 1 e gara 2 ci ha ammazzato, per cui era prioritario mettergli la museruola e l'abbiamo fatto. Adesso una buona Pasqua giocando, che era quello che volevate insomma. Certo, ma noi questa sera lo vogliamo tirare molto in là, però per farlo dobbiamo, come questa sera e come domenica, entrare molto determinati, lucidi sulle cose che dobbiamo fare. Questo è saper soffrire, perché l'altra cosa non è che le cose vengono così sempre facili. Bisogna saper soffrire, bisogna tenere la squadra avversaria lì anche quando non stai giocando bene, perché conta il risultato finale, quindi non i parziali. Dobbiamo essere bravi in queste cose qui.